Il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, progetta una nuova città con il turbo, puntando di mettere in sicurezza la parte terminale del fiume Sele che attraversa il comune con i recovery fund, circa 22 milioni di euro. La Capaccio che immagina il primo cittadino sarà bellissima, ha detto, elencando le opere pubbliche del prossimo piano triennale. Rete ciclabile, adeguamento depuratore, zona degli insediamenti produttivi, la rete fognaria, il recupero della strada di accesso a Pestum, fondi per incentivare il turismo, mobilità turistica nei pressi della stazione ferroviaria di Pestum, adeguamento sismico e ristrutturazione della casa municipale al capoluogo, recupero del centro storico del capoluogo, acquedotto, regolarizzazione della confluenza dei fiumi Sele, calore lucano, il convogliamento dei reflui fognari, dei comuni di Albanella e Altavilla Silentina, l'impianto di depurazione di Varolato, il palazzetto dello sport, una nuova stazione ferroviaria a Capaccio Scalo, il recupero dell'anfiteatro nell'area archeologica, il progetto complessivo per efficientare l'intera illuminazione pubblica e la pista ciclabile a Molino di Mare. Annuncia inoltre di cancellare gran parte dei 2.500 monoresidenti che dicono che la prima casa è a Capaccio Pestum, mentre ne possiedono anche a Sorrento, Capri e Mondragone, gente che non paga niente, è ora di finirla, basta anche alle 600 e più persone che godono della tariffa agevolata sui rifiuti.